Stavo saltando dalla Jugoslavia su un albero, ma si è rotto. Ho provato ad afferrarne un altro, ma si è rotto, 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 rotto. E il cameraman jugoslavo teneva una telecamera di quel tipo. Se appoggiasse la macchina fotografica, spingimi solo un po', credo che sarei al sicuro. Quando vede la mia caduta, lascia la camera. Sono stato così fortunato che conosco come cadere. Mi cadere in quel modo, boom, passiamo a Andy. Sai, se cado in quel modo, sparito. Andato, perché cado così, solo, solo un piccolo pugno, boom. Poi mi alzo, il mio cappello indietro, boom, boom. Sì, se tornassi indietro penso sto morendo. Non so, mi alzo, hanno detto non alzarti. Sento orecchio, pu, pu. Il sangue esce, oh Dio. I buchi qui si aprono come un boom. Sì, rimuovi il boom, metti la plastica, cambia la plastica, sostituiscila con qualcosa di più resistente. Sì, rimuovi il peso,